Ciao a tutti ragazzi, qui Wolf e Giacopo Mi siamo tornati con un altro commentary sempre su Call of Duty dopo aver chiuso la saga di Battlefield eh lasciamo stare iniziamo subito con la classe che è MP7 con silenziatore e caricatore rapido poi secondario 23R un caricatore aumentato con il caro 1 con inflessibile fantasma proprio ad acciaio e insieme a geniere abbiamo risolto credo i problemi con l'audio perchè qualcuno aveva sbagliato quando dicevamo che l'audio era in HD in realtà faceva schifo perchè qualcuno aveva sbagliato a impostare Cantasia e quindi faceva schifo l'audio magari Cantasia era lui proprio si non so adesso magari probabilmente anche questo audio qui fa schifo perchè abbiamo dei miei problemi si sente l'audio dal microfono io non so se voi sentite un loop se non sentite affatto l'audio speriamo che non si sente niente speriamo che sia normale solo che ah no guardate adesso guardate tutti qua camperari infatti farò una farò una quadrucla perchè c'erano quattro camperari io posso sentire l'audio dal microfono invece che dalle cuffie ok c'è qualcosa che non va si no è normalissimo qui abbiamo messo in cortocircuito mezzo computer abbiamo scassato i collegamenti siamo pieni di cavi non potete immaginare che disastro per oggi comunque a questo proposito direi a questo punto di parlare no perchè abbiamo fatto questo video siamo staccati da parte visto che no la secondaria è la K40 ma fa niente tanto non la userò scusate ma abbiamo fatto un tentativo di vedere Kantasa a schermo intero ma naturalmente mentre registriamo la voce non si può vediamo no non si può non si può proprio lui scemo comunque stavo dicendo proposito di scemi che è qualcuno che togge i corari comunque dopo aver finito la saga di Watt e finirei che adesso passeremo a Call of Duty e soprattutto altre nuove serie sapete tutti cosa su GTA ci saranno altri giochi che poi certi dobbiamo ancora pensarci quindi e Stefan Kavos purtroppo non c'è neanche oggi no non purtroppo adesso vedete che Stefan Kavos si mette a insultarci che sfortuna è che non c'è ci dispiace veramente mi sembra giusto dunque siamo sempre nomati su Overflow cioè ormai devo sempre giocare su quella mappa di se voglio fare bene risultati almeno che non ci sia un VTOL sai cos'è il VTOL? no bravo adesso vabbè i nostri programmi e i content che stanno lavorando a pieno reagire per convertire in video l'audio e i video l'ho già letto si perchè l'HDPWR questo qua non è letto un HDPWR ma l'HDPWR usa TS che nessuno sa qual è che significhi si no praticamente è un formato touch screen è un touch screen non so se l'abbiamo capito tutti quanti forse Stefan Kaos quando guarda il video si domanda cosa voglia dire cosa vorrà mai dire è lo schermo del suo cellulare l'HTC ti ricordi quello di Pietro? faccio rifornimento solo ma non se lo ricordo poveretto ci dispiace che anche oggi si assente causa creeper c'è stata una coda in autostrada creeper e guardate si vabbè questo qua è un altro camping ce lo dicevo eh che i creeper che si mettono tutti in figura mamma mia faccia tutto in arima no ma guarda che poi la fila si libera in un attimo perché se sei in autostrada sei in coda con tutti i creeper davanti poi da potersi correre non ce n'è più neanche uno poi non ci sei neanche te no dipende se sei in creativa eh dipende dalle situazioni comunque a questo proposito direi dopo aver parlato di creeper non creeper cavi, collegamenti soprattutto di stefan kaos ciao stefano ok naturalmente non è morto ecco era in creativa anche lui eh siamo tutti in creativa oggi ora dicendo no io sono in sopravvivenza io lo sa quel tempo ci da proprio manca quindi eh scusate un attimo tieni un attimo il microfono cosa che devo tenere? tienilo parloci qui eh vabbè ragazzi a questo punto direi ed è questo gameplay lo so che viene da un po' di tempo che non facciamo niente di Call of Duty ma per la sola di Battlefield l'abbiamo potuto o comunque adesso riprenderemo come vi ho detto prima ci saranno tutte le altre serie anche su GTA e anche altri giochi però questo punto direi allora ci possiamo dire che fra un po' sarà finita ecco qua scusate ma il telefono qua non smetterai di squillare ai VIP che noi naturalmente siamo VIP e quindi ho dovuto rispondere a una chiamata di una mia fans che poi era mio padre ha detto che viene a prendermi fra 5 minuti quindi ce la facciamo a fare un video di lui eh finiamo questo qua si siamo a metà dai 5 ancora 4 minuti ce la facciamo ah si dai tanto questo qui è un double perchè tra un po' parte anche la seconda partita no che in realtà non è una seconda partita femministe a dire vabbè qua do non è anche è una massa ecco non avremmo dovuto tagliare i risultati del cioè sono un po' lunghi vabbè fagnate durante il montaggio abbiamo dimenticato scusate perchè noi prima abbiamo fatto il montaggio e poi adesso facciamo il live e poi rifacciamo il montaggio no comunque ragazzi questo qua è un'altra parola non è una partita intera è soltanto un pezzo è una partita dove ho fatto un senza anima sono quasi arrivato a 20 uccidori di fila poi l'aveva tuttissimo ammazzato senza anima vuol dire che non anima quindi ti uccidori di fila lasciamo stare ok arma tag 25 chi è quello la? no vuoi scornare niente? c'era uno sul post vabbè comunque ragazzi macchinetta arma semmai giusto da belen comunque arma tag 25 con caricatore rapido poi vabbè i bonus poi secondo me c'era 23 con caricatore abitato vabbè vabbè sull'attivio devo fare i soldi poi cosa chiede l'altro vabbè gli accessori sono sempre i soliti cioè comunque no che il perk che riguarda uno inflessibile fantasma acciaio ingegnere dov'è il fantasma? il fantasma formagino ritorna ritorna di nuovo poi ragazzi del fantasma mi mettiamo ancora l'immagine in montaggio questo qua lo faremo per ricordare l'epico ecco è stato bella questo qua mi sembra che poi lo scada qualcuno non sappiamo neanche quanto tempo fa abbiamo caricato quello del fantasma formagino anche se in realtà l'abbiamo caricato un meno di un paio di settimane fa ma però sapete noi cariciamo i video dopo ma anche difficile quando uscirò questo video sarà 4 anni ma no 4 anni perchè noi i video li teniamo buoni per dopo li mettiamo in frigorifero per il giorno dopo facciamo settordici ecco praticamente signore la macedonia avanza mettetela in frigorifero si è le battute di Jacopo veramente la fatta Wolf cioè quando in guerra c'era Napoleone contro la macedonia c'era Napoleone no vero Napoleone che diceva Cesare Napoleone era quello della telefonata Waterloo ah si quello del creeper che era un problema già allora ah già però è troppo bello anche quello lì ragazzi quel video li etico l'avremmo caricato no lo stesso è lo stesso il fantasma comunque ragazzi credo che a 100 iscritti ritornerà questo quel video un tipo di video del genere forse ne abbiamo già un altro 100 ma come 100 scusate eh a 100 iscritti eh ma noi eh noi si a quanto cavolo saremo? a 7 o 8 aspe aspe eh che favore eh che favore senti no faccio io faccio io cerca tra master channel allora perchè noi naturalmente adesso tra men ah huh sì che fa e fra un po' sanulating il video si fra un po' finisce il video prima che riusci Up .. X 15 video quindici video ma come arrimo tre giorni fa l'ho caricato ieri il video già con quattro izquierdo azioni 7 iscritti sette iscritti quante visualizzazioni, quante, quante ma non lo so vai su, about vai lì vediamo 337 visualizzazioni, qui abbiamo già superato le 100 qua vedete, senza anima poi va bene, mi troverò altissimo ecco, 870 siamo vicini alla fine, gente si, poi ero quasi a 19 forse ero 19 quando poi sono morto comunque adesso è superposto, dopo questo qua all'iniziale tutte le varie serie, ci sarà un trailer, se Jacopo Mì riuscirà a farlo se non li saremo subito ma no, credo che per una settimana sarà pronto, anche prima comunque ragazzi, a questo proposito, bella a tutti da Wolf e da Jacopo Mì quasi alla fine, attenzione 3, 2, 1 e alla prossima